Il mio percorso è stato quello di nuotatore che a 17 anni si è trasferito da Napoli a Roma per intraprendere una carriera rosea di successi, come fortunatamente è stato, nel senso che sono riuscito a partecipare a un campionato europeo nel 2006 andando in finale e nello stesso tempo alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Oltre a questo sicuramente sono riuscito ad ottenere dei titoli italiani assoluti, dei record italiani. Sicuramente oggi all'età di 30 anni mi trovo a dover iniziare un percorso che mi porta a conoscere quello che è lo sport dopo essere stato atleta. Quindi non vedo l'ora di iniziare e di costruire quello che è in me il progetto più bello per continuare la mia carriera di atleta.